nella mostra abbiamo voluto mettere a confronto due acquarelli una natura morta di bottiglie di plastica e una composizione di papaveri e ci siamo chiesti e lo chiediamo anche a voi quale dei due acquarelli preferireste appendere in casa vostra se pensiamo all'arte alla bellezza in generale non ci viene certo in mente la plastica come primo materiale ci vengono in mente piuttosto altri materiali come la carta il vetro le stoffe i metalli la pietra tutti i materiali creati totalmente da madre natura materiali che hanno un fascino e una magia maggiore dell'unico materiale inventato totalmente dall'uomo che è la plastica plasticchio lo troverete qui in galleria dei cetacei insieme a pinocchio per tutta la durata della mostra e lo troverete anche sui nostri canali social del museo e con lui potrete approfondire le varie tematiche relative al vastissimo mondo della plastica no 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 Grazie a tutti